Ogni musicista, un iscrittore ha tante corde da toccare. Sicuramente io non ho mai nascosto la mia voglia di usare la canzone per narrare quello che succede intorno, però mi secca anche passare per uno che canta solamente le cose politiche o gli eventi politici. Non ho mai nascosto le mie idee politiche, ma sono comunque una persona che parla un po' di tutto. Allo stadio di Modena per un concerto benefico in favore della Rdnia. Doveva essere un'operazione corale con un'esibizione collettiva finale. Solo che Tracy Chaplin, la grande e timida star, forse spaventata dall'enorme successo di quest'ultimo anno, non ha voluto partecipare alla conferenza stampa né cantare assieme agli altri alla fine. Più festoso è disponibile l'atteggiamento di John Bytes. Eccola mentre balla solitaria nel backstage. Edide Gregori insieme hanno brindato con i giornalisti e hanno spiegato le ragioni dell'incontro. Siamo tre persone che hanno cercato di affidare al veicolo canzone dei messaggi, non soltanto così d'amore, ma insomma di narrare un po' quello che ci sta intorno. Sono felice di essere qui con Tracy Chaplin. Lei ha riaperto una porta che era rimasta chiusa per molti, troppi anni. Cinque anni fa non ci sarebbero stati tanti giovani ad ascoltare canzoni politiche, come questa sera. Il momento più intenso e emozionante della serata è stato questo duetto. De Gregori e la Bytes hanno cantato insieme The Boxer di Simon e Garfunkel. Poi circa diecimila giovani dello stadio di Modena hanno ascoltato in silenzio la voce calda della piccola e solitaria Tracy Chaplin, che come sempre ha cantato di rivoluzione. Il nostro telegiornale si conclude. Il mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò, e oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io vuole.